I lavori per la realizzazione del passaggio pedonale che collegherà Via Andria a Via Filannino partiranno a breve, comprendo i cittadini, ma possono stare tranquilli perché ci stiamo mettendo tutto l'impegno possibile. 24 ore dopo la protesta pacifica davanti al Palazzo di Città dei residenti di Via Andria e Via Callano è arrivata la risposta del sindaco di Barletta Cosimo Cannito. Lo scorso 21 gennaio da un incontro tra sindaco e ferro tranviaria era emersa la possibilità di realizzare un passaggio pedonale utile a rompere l'isolamento della zona interessata dal cantiere per la rimozione dei passaggi a livello aperto ormai un anno fa. La mancata canterizzazione aveva provocato la reazione dei cittadini scesi nuovamente ieri in piazza. Il sindaco li ha però rassicurati la partenza dei lavori e ad un passo. Stamattina abbiamo avuto l'autorizzazione esecutiva, il progetto esecutivo da parte di ferro tranviaria. Venerdì il nostro dirigente ai lavori pubblici mi ha comunicato che metterà a gara i lavori che dovranno essere consegnati dopo la giudicazione dal comune in cinque giorni e dall'impresa dovranno essere assunti e iniziati entro cinque giorni dalla consegna. Io ho chiesto loro di avere ancora pazienza, io anzi devo ringraziarli per il disagio che stanno sopportando, un disagio che è finalizzato all'esecuzione di un'opera pubblica strategica importantissima per la città. Sulla tempistica che porterà alla conclusione dell'opera il sindaco pur non sbilanciandosi traccia un cronoprogramma ben preciso. Noi abbiamo dato tempo all'impresa 25 giorni, i 25 giorni non sono in realtà 25 giorni di lavoro effettivi, sono i 25 giorni necessari alla costruzione del cancello e del tappeto per l'attraversamento pedonale.